Ciao e benvenuto su elenco prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori mini tv portatili. Dopo approfondite ricerche e test abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Luminosità, uscita HDMI audio video, ingresso monitor audio video con cavo in dotazione. Ha una vasta gamma di applicazioni come l'intrattenimento domestico in giardino o sulla terrazza, alle feste o in viaggio in roulotto o in campeggio. Può anche essere utilizzato come monitor per il collegamento ad un PC con sistema operativo Windows XP, Vista O7. Il 3VL TV 2010 è alimentato da una batteria a litio modello 20 WH e una batteria di C5W modello 28 WH. Il televisore può funzionare senza batteria come un power bank USB e ha un'autonomia di circa un'ora e permette lo streaming simultaneo di video su diversi canali HD MPEG 4. Il televisore ha ricevitore DVB-T2 per la riproduzione della TV digitale terrestre, funzione PIP, connessione di un monitor a barra a V esterno con interfaccia integrata e connessione HDMI a V. 4 gradi posto abbiamo Camper Caravan Barca. Il Camper Caravan Bot Kitchen 12V 14 pollici LED Digital TV è ideale per camper, caravan, camion e barche. È compatibile con DVB-T e DVB-T2. Può essere alimentato da 230 V acquistare o 12 VDC e include la funzione PVR per registrare i programmi TV su una memoria USB. La TV è dotata di telecomunicazioni. Può anche essere installato privatamente in una barca, in un bar o in un camper per un uso speciale e può anche essere usato come TV nel bagagliaio. Pedal Bot in vendita le Pedal Bot sono imbarcazioni a pedali sviluppate appositamente per i bambini e che possono essere utilizzate fin da piccolissimi. Si propongono quindi come un'attività divertente ed educativa insieme, con la possibilità di imparsin da pedalare in totale sicurezza. Sono dotati di un ponte, che è anche dotato di una barra di tettoia per proteggere i piedi e la suola. Numero 3. Abbiamo New Majestic TV DIG 935. New Majestic TV DIG 935 è un ricevitore televisivo digitale Full HD. Può ricevere gratuitamente trasmissioni digitali terrestri e satellitari, compresi i programmi ad alta definizione. Il dispositivo ha una porta USB incorporata che permette di visualizzare i file multimediali dal vostro flash drive o disco rigido sullo schermo del televisore. È possibile utilizzare questa funzione per guardare video, ascoltare musica o visualizzare. Il TV DIG 935 ha anche funzioni time shifting, time recording e PVR. Il TV DIG 935 è un decoder barra registratore digitale che può registrare simultaneamente due canali digitali sulla memoria USB ed è in grado di riprodurre simultaneamente sul televisore collegato. È anche possibile monitorare o accedere alla TV tramite lo smartphone utilizzando lo streaming di VLC Player. Il televisore è dotato di un telefono universale a infrarossi e di un browser web remoto per controllare varie applicazioni come U-Torrent. TV DIG 935 è anche dotato di uno slot USB 2, due sintonizzatori DVB-T2 e DVB-C, uno uscita audio S-PDF, HDMI, Ethernet 10 100 megabit al secondo. Il marchio Terratec fa parte del gruppo svizzero Kudelsky Sa, specializzato in sistemi di sicurezza per la privacy e le aziende di tecnologia dei media che si occupano di criptografia e setup box per la televisione digitale. L'azienda è stata fondata nel 1981 da Klaus Nukter Neernstah. Numero 2. Abbiamo televisore portatile. 12. TV portatile da un pollice, piccolo display TV LED con ingresso AV, uscita AV, cuffie, HDMI, USB. Il sintonizzatore ad alta sensibilità migliora la ricezione del segnale e rende la visione della TV più fluida e stabile. Si può godere i vostri film preferiti nella vostra casa o attività all'aperto da questo 12 televisione portatile. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi digitali come computer portatile, lettore DVD o lettore MP4H, che consente di guardare la televisione analogica. Questo 12 pollici TV portatile ha uno schermo LCD ad alta luminosità per portarvi meraviglioso godimento visivo sotto il sole. L'unità è dotata di una porta HDMI HD per la connessione a un PC o console di gioco e ha ampi controlli dell'immagine. La potente batteria con una capacità di 5000 mAh fornisce fino a 8 ore di funzionamento. Per finire, il numero 1 della nostra lista è TV portatile. La TV portatile, TV portatile da 14 pollici, 1080p169 LED Car TV, è una TV LCD portatile con TFT LED ad alta risoluzione. È la migliore attrezzatura di intrattenimento dell'automobile per voi per guardare i film e giocare sulla strada. Con questo prodotto, si può godere i vostri film preferiti e la musica in qualsiasi momento ovunque. La dimensione dello schermo di questa TV portatile auto 14 pollici è circa 14 pollici che è abbastanza grande per guardare video e giocare. Il vecchio modello ha una buona capacità di 1 GB 8 GB di memoria flash interna, che può essere utilizzata per riprodurre film e giochi. Il nuovo design del sistema intelligente rende l'autonomia della batteria molto migliore. Il nuovo design del pannello LED rende la TV portatile per auto più luminosa e stabile. Il prodotto può essere usato come una TV digitale in viaggio o in casa. Sarai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante il mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri. Grazie per aver guardato il nostro video.